Importante incontro domani alle 11 presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane dello Svincolo di Rosolini. Il presidente del CAS Rosario Faraci incontrerà i sindaci dei comuni di Ragusa, Modica, Santa Croce Camerina, Comiso, Acate, Vittoria, Rosolini e Gela per fare il punto della situazione sul completamento dell'autostrada Siracusa-Gela. La Siracusa-Gela è una infrastruttura indispensabile, ha detto il presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane per esaltare l'economia e il turismo dell'intera Sicilia oltre che di quella importante area geografica. Occorre riprendere la questione coinvolgendo innanzitutto la politica e le istituzioni per il completamento degli ultimi sette lotti della tratta. Insieme riusciremo negli obiettivi che il presidente Crocetta ha già più volte giudicato prioritario. Ovviamente è rilevante il sostegno dei comuni del territorio, delle forze politiche e sociali del luogo e quello della comunità, conclude Faraci. Vero è che l'importante arteria stradale è un progetto che i cittadini di gran parte della Sicilia, Gela compresa, attendono da decenni. Tra speranze svanite, disincanto, inesorabile, il tempo è trascorso. Si attendono novità per rendere più fruibile una zona dell'isola che potrebbe certamente potenziare gran parte della propria economia contando su una rete viaria più sicura, veloce ed efficiente.